e benvenuti eccoci qua e oggi si parla di surrealismo 1924 andrea breton scrive pubblica il manifesto surrealista che è pubblicato come al solito nel libro di mario de michele le avanguardie artistiche del novecento quindi li trovate sempre tutti in questo testo fondamentale che viene usato da decenni da tutti gli studenti di storia dell'arte non ve lo posso leggere tutto perché è lunghissimo veramente quindi è impensabile anche perché quasi un trattato di filosofia e psicoanalisi mescolate tra loro comunque lui comincia dicendo che c'è un dubbio su che cos'è la realtà della vita sostanzialmente e poi dice quello che resta è la follia si sa che infatti che i pazzi devono la loro prigionia a un piccolo numero d'atti legalmente reprensibili e che senza questi atti la loro libertà non sarebbe in gioco quindi la follia come probabilmente unica autenticità e parla proprio della libertà dell'immaginazione e in particolar modo lui si interessa proprio in questo lungo eh saggio manifesto proprio a Freud dice infatti giustamente Freud ha condotto la sua critica sul sogno è inammissibile infatti che questa considerevole parte dell'attività psichica abbia ancora richiamato così poco l'attenzione l'estrema differenza di importanza di serietà di gravità che rappresentano per l'osservatore comune gli avvenimenti della veglia e quelli del sonno ma sempre sorpreso è che l'uomo quando cessa di dormire entra innanzitutto nel gioco della sua memoria e questa allo stato normale si limita a tracciare debolmente la circostanza del sogno privando quest'ultimo di ogni conseguenza attuale e facendo scaturire da sola la sola determinante dal punto dove egli crede di averlo lasciato eccetera eccetera non possiamo leggerlo tutto come vi dicevo però è che proprio la dimensione onirica la dimensione del sogno la dimensione del della appunto dell'inconscio sono fondamentali per questo movimento che non a caso proprio prende il nome di surrealismo cioè oltre la realtà perché questo fondamentalmente ci sono due punti un punto è che non esiste una realtà assoluta si prende atto anche nelle arti visive che non c'è modo di rappresentare attraverso l'arte una realtà univoca per tutti gli esseri viventi che la realtà è sempre distorta diciamo così dalla percezione personale di ciascuno dalla esperienza di quella persona quindi senza indagare l'inconscio non si può raccontare nulla diciamo di veramente vero l'unica vera e assoluta realtà è quella che ogni singolo artista vive in se stesso bisogna dire che questi artisti in realtà sono molto diversi fra loro nel senso che noi abbiamo scrittori abbiamo pittori e abbiamo anche artisti che in realtà usano tecniche diverse mescolandole fra loro o anche semplicemente che creano un ambiente surrealista come fece ad esempio proprio sempre l'eterno Duchamp nell'ultima mostra surrealista del 1938 creata in una specie di antro buio a parigi e dove appunto l'opera d'arte è effettivamente per lui l'allestimento stesso della mostra che contiene a sua volta le opere d'arte di tutti i suoi amici ad esempio il surrealismo pesca dal punto di vista tecnico nelle arti visive tante dal dadaismo quanto dal cubismo sono numerosissimi gli artisti che aderiscono uno di questi tanto per dirne una è il solito Picasso che vi faccio vedere adotta una modalità rappresentativa che viene definita polimorfismo ecco qui per esempio qui vedete uno dei suoi dipinti di carattere appunto polimorfo si tratta della perdonatemi della donna con il fiore del 1932 vedete siamo proprio negli anni del surrealismo di che cosa si tratta ve lo racconto in un altro modo tutti quanti noi abbiamo l'esperienza del sogno quando ci capita di raccontare di dire oh ti ho sognato però non eri proprio tu eri tu però a un certo punto ti trasformavi in un'altra persona poi eri eravamo in questo posto però era un po diverso perché ecco esattamente questo il polimorfismo la mutevolezza del sogno che in realtà attraverso delle immagini archetipiche ci sta raccontando qualcos'altro proprio Picasso tra l'altro interpretò in maniera profonda questo aspetto del surrealismo e anche tutto l'aspetto degli archetipi essendo lui uno dei disegnatori per esempio di questa rivista che si chiamava il minotauro francese che era proprio l'organo ufficiale dei surrealisti che uscì in realtà per un certo per pochi numeri ma che appunto serviva a far conoscere al grande pubblico proprio il tutte le forme dell'espressione artistica del surrealismo e dalle riviste passiamo ai libri d'artista vi faccio vedere un'opera di un altro dei grandi protagonisti del surrealismo che è Max Ernst questo è un libro che si intitola una settimana di bontà questa è una riproduzione anastatica praticamente di quel libro e dove appunto con 182 immagini fratte da realizzate in collage e con ritagli da illustrazioni di epoca vittoriana in realtà Max Ernst costruisce per l'appunto un racconto del tutto straziante straniante basta pensare per esempio qui questa specie di medico con la testa di leone che questa specie di medico con la testa di leone che sta qui e sembra torturare questa donna una delle manie proprio di Max Ernst erano in realtà gli uccelli spesso ci sono figure con testa di uccelli uccelli che escono dalle finestre insomma ce n'è davvero per tutti i gusti o comunque con la trasformazione in animali proprio nella trasformazione in animali troviamo un altro dipinto fondamentale proprio di Max Ernst vale a dire l'antipapa del 1942 adesso mi prendo quest'altro agile volumetto sempre il solito vale a dire questo appunto della collezione Guggenheim spero di aver messo il segnalibro nel posto giusto e vi faccio vedere un'opera capitale della storia dell'arte che vi racconto tra l'altro che quando fu portata a Roma in una mostra di tantissimi anni fa io ero ragazzina esposta in Campidoglio io ero così incantata che mi sono seduta per terra gambe incrociate davanti a questo quadro e ho perso letteralmente il senso del tempo tanto mi ha incantato eccolo qui il dipinto in questione è abbastanza grande l'antipapa adesso vi dico anche le misure esatte eccolo qui questo è il dipinto in questione eccolo quindi lo vedete vedete che c'è una figura con una testa di cavallo e poi c'è un'altra figura ancora con una testa di cavallo sulla sinistra e poi delle figure femminili ma sembra tutto brulicante su un fondale marino pieno incrostato completamente come di elementi eh che vengono fuori appunto dalla dall'aver giaciuto sul fondale del mare perché sa quanto tempo o da un altro pianeta anche dal pianeta dell'inconscio si dice che questo dipinto sia in realtà autobiografico perché mentre Max Ernst come dicevamo nella puntata precedente era sposato con Peggy Guggenheim appunto portava avanti una relazione con questa artista britannica surrealista che era Lenora Carrington che era pure lei negli Stati Uniti e il quadro dovrebbe nel 42 proprio rappresentare ehm lo spostamento dell'attenzione dell'artista verso quest'altra donna tant'è che il tema di soldo di Max Ernst sono gli uccelli mentre invece Lenora Carrington lavora tantissimo con le teste equine e qui come vedete i personaggi fondamentali hanno tutti una testa di cavallo l'antipapa sembra quindi in qualche modo come una sostituzione la papessa che era Peggy Guggenheim viene sostituita da una antipapessa che è Lenora Carrington non sappiamo quanto questo sia vero perché uno degli aspetti del suo realismo è chiaramente quello di ehm non eh non darci eccessivi indizi nel senso che questi dipinti non possono essere spiegati la tecnica nel caso per esempio di Max Ernst è completamente iper e iper realista potremmo dire non possono essere spiegati questi dipinti perché è proprio giocare sull'inconscio come facciamo a raccontare l'inconscio a parole a qualcun altro ciascuno di noi di fronte a queste opere deve trarre la propria personale esperienza anche di inquietudine di stramiamento d'altra parte che le immagini non possano essere utili a raccontarci una verità assoluta ce lo spiega bene un altro grandissimo surrealista belga che era Magritte René Magritte nato appunto eh nella mille ottocento novantotto morto nel sessantasette una vita abbastanza lunga piena di opere è stato chiamato il disturbatore silenzioso perché tutti quanti voi sapete questo è un arte dossier come tutti voi sapete insomma Magritte ha proprio del fatto della del silenzio interno alle opere la sua cifra stilistica ma è una cifra che ci rimanda sempre alle visioni di sogno e il celeberrimo questo non è una pipa del 1948 ci spiega tutto voi direte come non è una pipa e no che non è una pipa perché non potete certo accenderla questo è un dipinto è un'immagine di una pipa soltanto che tutti noi rimaniamo davanti a questo piccolo gioco rimaniamo sempre un po' stupiti perché ci sentiamo provocati e dire ma come non è una pipa allora l'artista ha voluto fare una provocazione no non fa non ha fatto nessuna provocazione ci ha detto una verità questa non è una pipa è un dipinto la questione è che tutto il lavoro di Magritte in realtà è proprio legato alla incomunicabilità e proprio uno dei temi chiave di Magritte è proprio l'incomunicabilità tra le persone come il caso appunto degli amanti del 1928 quindi siamo proprio all'inizio del surrealismo dove come vedete sono tutte e due le teste coperte con un panno al di là dell'aspetto autobiografico perché sembra che Magritte abbia assistito da bambino abbia trovato da bambino la mamma morta che galleggiava affogata dentro un torrente dietro casa con il viso coperto dalla camicia da notte ma al di là di questo e quindi del trauma dell'infanzia c'è il fatto che lui usa questo questo tema dell'incomunicabilità che d'altra parte abbiamo appena visto anche sulla copertina come tema ricorrente della sua opera quando noi per esempio vediamo la figura di spalle di vante un'altra figura di spalle non parlano fra loro per esempio no ce ne sono tante nelle opere di Magritte adesso qui sto andando un po così a caso eccole questi per esempio le figure tutte quante di spalle non comunicano mai con noi quando mai si fa un ritratto di qualcuno di spalle il fatto è che per Magritte l'incomunicabilità diventa tema della sua comunicazione ma il tema vero proprio del surrealismo è proprio il tema della impossibilità di comunicare una realtà unica che vada bene per tutti per ultimo dai tantissimi artisti che raccoglie il surrealismo che comprende per esempio anche miro tanto per dirne una l'altro grande surrealista belga che del vo tanto per dirne un altro ma non possiamo certo vederli tutti ma senza dubbio da lì salvador dalì non solo è un surrealista ma lui stesso diceva gli altri fanno i surrealisti io sono il surrealista è stato veramente un pioniere della prima ora salvador dalì usiamo sempre gli altri dossier perché sono molto utili e comodi e anche perché in poche immagini ci rappresentano molto bene un artista lui per esempio aveva un'altra personale ossessione a parte che usa ogni strumento quindi lui sullo stesso tema ritorna con la scultura ritorna con la pittura ritorna con l'allestimento ritorna con l'incisione con l'illustrazione con qualunque mezzo possibile ma e qui per esempio vediamo la venere a cassetti famosissima che lui che poi ritorna anche e questa del 1936 che poi ritorna anche nei dipinti che cos'è la venere di millo con tutti i cassetti che si aprono è come se noi aprissimo letteralmente i cassetti della coscienza di qualcuno d'altra parte noi guardiamo la venere di millo solo come statua museale e quindi non pensiamo alla eventuale donna viva e vera in carne e ossa che ha per lei diciamo realizzato questa scultura che la ritratta ad esempio tanto per fare un esempio ma anche noi non guardiamo quello che è il significato archetipico della venere quindi quello che riguarda l'aspetto psicoanalitico mentre appunto questi cassetti ci inducono ad aprire a fare un'azione il fatto è che ora queste opere sono nei musei e quindi chiaramente non ce le fanno toccare ma noi dovremmo poter aprire e chiudere questi cassetti dovremmo poter inserire dentro delle cose che qualcun altro trova cioè dovremmo poter interagire non più come osservatori statici ma aggiungendo qualche cosa che sarà diverso per ciascuno di noi perché ciascuno di noi ha una diversa esperienza psicologica ma la vera ossessione ridale è chiaramente il tempo e proprio le serie degli orologi questo per esempio è la persistenza della memoria 1931 il significato del tempo così come picasso rappresenta queste figure che poi sono per lo più le donne della sua vita in questa maniera polimorfa e quindi diciamo che si trasformano e trasformano l'una nell'altra come i suoi amori si mescolano gli uni negli altri le sue relazioni nella stessa maniera invece da lì è agganciato al tema del tempo un tempo che nel sogno si sospende si allunga si dilata si abbrevia sappiamo che noi abbiamo l'impressione durante il sonno di aver sognato per ore qualcosa che magari è durato solo pochi secondi no ecco l'inconsistenza del tempo o il tempo che si appunto allunga all'infinito è proprio uno degli aspetti chiave della dell'opera ridale infatti si dedica molto spesso a questi orologi molli come vengono chiamati che sono diventati celebermi sui quali lui ritorna a più riprese in tutta la sua lunga vita perché vive dal 1904 al 1989 concludendo il surrealismo è una stagione che dal punto di vista della storia diciamo cronologico si chiude nel 1938 39 appunto con l'arrivo della seconda guerra mondiale in realtà non è esattamente così non è esattamente così perché il surrealismo un po come il dadaismo dal quale tra l'altro prende le mosse è presente vivo insieme in mezzo a noi e ha lasciato un segno fortissimo nel lavoro degli artisti di oggi perché ciascun artista oggi sa benissimo che non esiste altra realtà che può rappresentare in maniera figurativa o astratta non importa se non la sua personale la sua personale esperienza e quindi il surrealismo nella sua breve storia nei suoi quindici anni ha in realtà gettato dei semi che ancora oggi sono fortemente presenti nella nostra arte contemporanea e grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti